Oh, oh, oh! All'attacco! Ma che succede? Lasciami! Lasciami! Aiuto! Oh, no! No, Junior! Basta! Smettile! Che stai facendo? Sto prendendo i tuoi amici! Figliaco! Siamo spacciati! Questa è la fine! Fa qualcosa! Gohan! Ti prego! Fa qualcosa! Best idea! Basta! Nez! Basta! Ba-a-ba-ba! Oh no, com'è potuto succedere? Si può sapere che sta succedendo con i... Majin Buu ha assorbito Junior e Gotenks Purtroppo adesso loro fanno parte del suo corpo Cosa? Non posso crederci, ma come ha fatto?